Musica Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube Allora, perdonate questo frontino orribilante a parte la mia faccia Ma più è ridicolo più lo amo, più le cose sono ridicole più io non posso farne a meno Molto bene, detto questo iniziamo con il video Allora, ho fatto una collaborazione con un'azienda che si chiama Firmo Il suo sito è firmo.com Firmo Global Online Optical Store Io comunque vi metto tutte le informazioni qui sotto nell'info box È un'azienda che fa occhiali da vista e da sole Questa azienda mi ha inviato un paio di occhiali Le ho scelte io perché c'è veramente una scelta vastissima poi, vi dirò Se voi vorrete acquistare degli occhiali da sole o da vista, il modello che volete Vi metto qui sotto nell'info box un codice sconto Proprio perché mi seguite, c'è uno sconto per voi E lo sconto si chiama licenziato E ve lo metto qui sotto nell'info box Vi metto il sito dell'azienda E il codice sconto appunto per avere un po' di sconticello Anche se gli occhiali lo stanno molto Infatti si gira su 19-29 euro C'è anche qualcuno dai 30 in su Però veramente i prezzi sono giusti per degli occhiali Anche perché potete scegliere tutto Potete scegliere il modello degli occhiali Potete scegliere la graduazione degli occhiali Quanto fare grande una lente Se farla colorata Potete scegliere tutto Io vi metto il sito così andate a vedere le varie scelte Proprio vi create, vi montate l'occhiale che più vi piace E poi lo acquistate Davvero potete scegliere qualsiasi cosa Allora, gli occhiali si presentano in questo scatolino Davvero molto carino Qui c'è il logo dell'azienda Appunto firmo Anche se non so se la vedete sovrapposta In questo scatolino Fatto in questo modo Dentro trovate una pezzolina gialla Molto doppia I colori sono un po' falsati Perché la luce è veramente terribile Perché è nuvoloso E poi ho scelto questi occhiali da vista Sono rossi e arancioni Sono sfumati dal rosso all'arancio Poi di nuovo rosso Ho scelto la lente più grande che c'è Infatti mi vanno un po' grandi di lente Però non sapevo regolarmi con i miei E quindi ho scelto questi qui Adesso li faccio vedere Sono carini Però mi piacciono Mi piacciono Mi piacciono Mi sono male Vedete la lente è leggermente troppo grande Però li ho scelti io Quindi voi potete farle anche un po' più piccole Lo stesso modello Insomma potete davvero Scegliere qualsiasi tipo di occhiale Qualsiasi modello E poi giustrate voi la lente Se la volete più grande, più piccola Se la volete ombrata Qualsiasi modo Ecco la luce è tornata più o meno normale Così potete vedere meglio Il colore degli occhiali Molto belli Davvero fatti bene Veramente Mi piacciono molto Bello anche il colore Arancione Lo amo E poi insieme a questo Vi arriva anche Questo sacchettino Dove voi potete Mettere gli occhiali Magari in borsa Quando uscite Se non volete portarvi Questo che pesa di più E qui c'è sempre Il logo Della 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 azienda E dentro C'è una cosa fichissima Perché Questo qui Vi metto dentro A questo sacchettino È praticamente un piccolo cacciavite Per poter Come si dice Risistemare la vite Praticamente a volte Gli occhiali si ammollano Perché la vite inizia a traballare La vite Si dice si E questo qui È un piccolo cacciavitino Vedete come è fatto Proprio un piccolo cacciavitino Aspetta Metti a fuoco Metti a fuoco Metti a fuoco Eccolo Con questo tappettino Ve lo potete portare in giro Lo potete attaccare anche alle chiavi In modo che se vi succede una cosa del genere Avete il vostro cacciavitino portatile Una cosa fichissima Questo lo darò a mia mamma Soprattutto che lei Ha sempre le lenti mollicce Ogni tanto E questa è una cosa Molto molto utile Direi che è un'azienda Veramente molto valida Per la questione Qualità prezzo Io credo davvero che siano Degli occhiali molto validi Davvero fatti bene Di un'ottima qualità Ti danno anche il cacciavitino Questo scatolo è davvero Molto rigido E fatto veramente bene Gli occhiali sono fatti molto bene E mi piace C'è una grandissima vastità Di colori Di tutto davvero Voi potete creare i vostri occhiali E questa è una cosa comodissima Mettere la graduazione Questi qua a me non sono graduati Perché li ho voluti fare riposanti Cioè per uscire magari il vento No? Per rendere un attimo il look più frizzante Quindi li ho fatti riposanti Così per leggere Però non li ho voluti graduare Però voi potete scegliere la graduazione O farli anche voi riposanti O semplicemente per avere un look più sgancio Diciamo Niente allora il video finisce Qui vi metto nell'info box Tutte le informazioni Il sito per acquistare gli occhiali E il codice sconto Che è molto importante Fatemi sapere se li avete già acquistati O se li vorrete acquistare Perché sono curiosa di vedere i vostri modelli Ero indecisa Tra un paio di modelli Ce n'era uno nero Che sotto praticamente non c'è Questa lente colorata E' trasparente E sopra è nero E qui c'è appizzo nero Era molto bello Mi piaceva Però alla fine opto sempre per le cose arancioni E questi qua devo dire Mi piacciono anche se sono un po' grandicelli Però non sono male Ecco non sono affatto male Ci vediamo allora nel prossimo video E nulla Fatevi sapere mi raccomando Ciao ciao